difendiamo l'obiettivo 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 Sei l'unico superstite. Sì, 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 sì. Abbiamo perso, ma non è finita. Cambio squadre. Cerca e distruggi. Difendiamo l'obiettivo. Ok. 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 So. Grazie a tutti Bomba piazzata Bomba disinnescata Ottimo, pronti al prossimo round Intervallo Cerca e distruggi Distruggiamo l'obiettivo Fai il tuo dovere soldato Sei l'ultimo rimasto Fai il tuo dovere soldato Fai il tuo dovere soldato Bomba piazzata Bomba piazzata Bene, prepararsi alla prossima battaglia. Cambio squadre. Cerca e distruggi. Difendiamo l'obiettivo. Bene, prepararsi alla prossima battaglia. Bene, prepararsi alla prossima battaglia. Cambio squadre. Cerca e distruggi. Distruggiamo l'obiettivo. Bene, prepararsi alla prossima battaglia. Bene, prepararsi alla prossima battaglia. Non sono un obiettivo. Cambio squadre. Cerca e distruggi. Difendiamo l'obiettivo. Ok. 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 Abbiamo il controllo.